Oggi i dati che emergono dagli studi prodotti dall'Associazione degli Industriali su scala nazionale rappresentano dei settori allarmanti, cioè abbiamo circa una carenza di 100.000 esperti addetti ai settori con una capacità ridotta di poter cogliere le minacce e trasformarle in opportunità. Tra i dati allarmanti emerge un dato positivo che è il dato della Sicilia che comunque rappresenta, a differenza di molti altri aspetti su cui si è basata l'indagine statistica, rappresenta 5 punti in più rispetto alla media nazionale su scala nazionale rispetto alla virtuosità delle imprese, cioè le imprese siciliane investono in media il 5% in più rispetto alle imprese del territorio nazionale in termini di sicurezza informatica e questo dato ci conforta enormemente a oggi.